ben tornati su imperium eccoci di nuovo in una nuova avventura il trono di dacia allora innanzitutto per giocare a questa avventura serve la mod greca il team della mod greca ha portato questa avventura su imperium le grandi battaglie di roma allora il trono di dacia terzo secolo dopo cristo roma contempla lo splendore della dacia una delle province più fiorenti dell'impero una terra troppo invitante per uomini avidi di potere un labirinto di cospirazioni che porta all'omicidio del governatore caio agrippa suo figlio fabio è condannato alle galere nella solitudine della sua della sua prigionia giura vendetta ok iniziamo subito la nave è affondata in quel punto vediamo se è rimasto qualche superstite per anni e anni ho vissuto una vita comoda nella città di apollonia capitale della dacia provincia della quale io ero erede un giorno mi svegliarono all'improvviso mi portarono alle galere mentre cetiglio metello usurpava il trono di mio padre e diventava governatore della dacia ora che sono libero giuro sulla mia vita e troverò il modo di tornare in dacia e di occupare il posto di governatore che mi spetta c'è un errore governatore non governatore coglione qui ci sono delle impronte un superstite sicuramente si sarà diretto al villaggio abbiamo ricevuto ordini di eliminare tutti i sopravvissuti maledetti mercenari perché mai mi vorranno vedere morto mi nasconderò tra i cespugli e aspetterò che passino se mi scoprono è finita si che cazzo devo fare sono un contenuto di merda devi rimanere finché non sarà passato il periodo con i mercenari prima o poi abbandoneranno le ricerche minchia siete proprio dei coglioni che non mi avete visto e comunque che cazzo succede oh succedete di tutti sì 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 sono dalla vostra parte io anche se non so chi siete obiettivo cerca aiuto nel villaggio questa gente non sembra male troppo non sarebbe una cattiva idea quella di chiedere aiuto ma 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 devi agire con progenza va bene andiamo a questo villaggino sono pronto sono pronto sì mio signore scusi saprebbe dirmi come raggiungere la capitale della dacia cosa ci fa un contadino come te da queste parti sai in dacia uccidono gli schiavi che scappano non sono uno schiavo ora capisco perché non lasciano entrare in dacia gente come te non hai rispetto per nessuno se avessi una spada ti farei vedere come ci si comporta con la gente del mio lignaggio guarda un po il ragazzo ha del carattere bene bene mi piaci anche se dovresti controllarti un po tutti sanno che un gruppo di mercenari sono stati mandati al lago e penso di sapere cosa cercano e quindi vuoi andare in dacia e non sarà facile tanto per cominciare sono stato sincero con te solo i cittadini romani possono accedervi liberamente anche gli schiavi possono farlo ma solo su vigilanza non c'è dubbio non è certo il modo migliore di entrare in una città ma io sono un cittadino romano mi devono lasciare entrare è più difficile di quanto sembri se vuoi puoi cercare di arrivare fino alla dacia ma presto ti accorgerai che non è facile evitare le truppe romane no c'è solo un modo per entrare ti devi trasformare in cittadino romano e il sistema più veloce per farlo e arruolarsi nell'esercito i soldati vengono spesso da queste parti in cerca di reclute se è l'unica via di salvezza lo farò sarà meglio che me ne vada subito aspetta non ti puoi presentare in queste condizioni un guerriero che si rispetti ti considererebbe pronto per l'esercito vestito da contadino e senza un'arma prendi impugna questa e ricorda che se hai bisogno di aiuto non esitare a chiedermelo d'accordo sono stato promosso a minchia guerriero regalico di merda ma sei proprio un tirchio di merda mi potevi dare al migliori coglione allora potrei avere accesso ad appollonia la capitale della dacia solo se qui esisci la cittadinanza romana ma se riveri la tua identità il governatore della città ti farà uccidere quindi non ti resta altra scelta che arruolati nell'esercito parla con i responsabili del reclutamento o porca madonna minchia quindi sono un emigrato di merda un clandestino va bene arruolatevi nell'esercito andate a conoscere il mondo unitevi alle vittoriose legioni di roma e trasformatevi in uomini se darete prova del vostro valore potrete crescere e conoscere la gloria cos'altro potrebbe chiedere un soldato e quindi cosa dite sarò felice di arruolarmi signore sarà un onore servire cesare e roma e proteggere la loro civiltà da qualsiasi minaccia perfetto vedo che siete invarii a volervi a ruolare benissimo purtroppo mi hanno ordinato di sceglierne solo uno per questo motivo ognuno di voi dovrà superare tre prove la prova di intelligenza quella di velocità e quella di forza iniziamo da te la prova di intelligenza è molto facile rispondi a questa domanda e otterrai qualcosa che ti aiuterà nelle prove successive ascolta attentamente un uomo può portare 20 frecce per uccidere un orso ce ne vogliono 5 per un lupo 3 per un cervo e ora ti ordino di recarti nel bosco e trovi sette lupi e tre orsi che si battono per un cervo quanti animali potresti uccidere con le frecce che ti ho dato o porco dio vediamo un po e trovi sette lupi e tre orsi che si battono per un cervo quanti animali potresti uscire con le frecce che ti ho dato no 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 beh non ti preoccupare ascolta attentamente a ovest c'è un tronco d'albero con una cintura magica devi prendere la cintura e tornare qui fai attenzione perché le guardie e gli arcieri hanno ricevuto ordine di attaccare se preferisci desistere non devi far altro che dirmelo aspetta che cazzo ora dovrei battere i tuoi rivali in questo modo diventerà il membro dell'esercito romano che cazzo ma io dovevo andare nella foresta che cazzo ne so dio cane uccidi sì tutti contro questo è il livello 8 quello è il livello 8 no aspetta un attimo questo è troppo forte ora devo risolvere questo mondo diventerà un membro dell'esercito romano forse per risuonino agli scudi al tuo servizio ma dovevate mirare a lui coglioni ma non muore sto coglione qua siamo fino alla morte dovete mirare a lui dovete mirare a lui ragazzi dovete mirare a lui mi raccomando eh io credo in voi dai amma porco dio porco il demonio ma non muore sto coglione ma non muore ma non muore devo farlo mirare a gli arcieri come ordini no 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 si ma non vale dove cazzo è sta roba carri suonino agli scudi no ma qui si speedrunnano dio cristo No, non è vero, si è stato fermo Ce l'ho ovunque fatto Dai, l'ho nascosto Benissimo Non potresti uccidere nessun animale Perché non ti ho dato nessuna freccia Sei un tipo intelligente Ti sei guadagnato un amuleto di piume d'aquila Ora passiamo alla prova successiva Ascolta attentamente A Ovest c'è un tronco d'albero Con una cintura magica Devi prendere la cintura e tornare qui Fai attenzione perché le guardie E gli arcieri hanno ricevuto ordine Di attaccare Se preferisci desistere Non devi far altro che dirmelo Sì ma come faccio a farlo Mi uccidono subito Non sei abbastanza veloce Non ti preoccupare La prova Questo non muore mai Vaffanculo cintura di merda Non serve una minchia Dio cane L'ho ammazzato io Non lo dimenticare mai Ora recati all'accampamento di Azia Dove è l'accampamento di Azia? Dove cazzo è sto accampamento? Ti dei presenari super fuori O pensarono che ti abbia Che pensare Che abbia disertato E dove cazzo è sto forte? Ciao raga Stavolta non mi attaccate Eh porco dio In marcia Vinceremo la battaglia Sempre pronto Dove cazzo è sto forte? Per Apollo Cosa vuoi soldato? Ti sembra forse una guida Fuori dalla mia vista Subito Oh ma vattene a fanculo Cosa vuoi soldato? No Questa è idra Ti può sapere Che diamine succede Ai soldati ultimamente Non fanno altro Che perdersi Cosa vuoi soldato? Eh? Non sto aspettando Nuove reclute Cosa vuoi soldato? Non mi disturbare Vinceremo la battaglia Lealtà Onore E gloria Vinceremo la battaglia Che cazzo è sta Che cazzo di coso? Lottare e vincere Vinceremo la battaglia Proveranno il filo Della mia spalla In teoria se segue Il sentiero Dovrei trovarlo Sì? Sì Proprio così Sì? Finalmente Si presenti immediatamente Al cospetto di Cornelio Soldato Lo troverà presso La tenda più grande Dell'accampamento nord Finalmente Era ora che apparissi Se avessi fatto Un po' più tardi Ti avremmo dichiarato Disertore Unisciti Immediatamente Alle fila E ora Ascoltatemi bene Reclute Non so a cosa Vi dedicavate Prima di arruolarvi Nell'esercito Ma per sopravvivere Qui dovrete seguire Delle regole Se obbedirete Agli ordini E servirete bene Roma Sarete ricompensati Gli ordini Sono questi Abbiamo scoperto Un pericoloso gruppo Di banditi Nella zona Li dovete trovare Ed eliminare Il prima possibile Ricordate Non vogliamo eroi Se siete in pericolo Tornate qui A curare Le vostre ferite E ora In marcia Ok Combattere in prima linea È un onore Quindi cosa devo fare I banditi Che si Non è Non sembra Una missione difficile Sì ma andiamo Andiamo con gli altri Andiamo con gli altri Sì ma ragazzi Aspettatemi Insieme Insieme facciamo la forza Quattro spade Sono meglio di una Dai Su Raga 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 Tutti contro uno È un onore Andiamo Andiamo No no Tre contro uno Ragazzi Aiutatemi Thank you very much Boh Torniamo all'accampamento In marcia Torna qui Ok Direi di terminare qui l'episodio E ci vediamo al prossimo episodio del Trono di Dacia Grazie a tutti Grazie a tutti